Sì, ci aspetta un'altra partita identica a questa, una squadra magari tecnicamente inferiore, però molto più aggressiva rispetto a noi, molto più cattiva di esperienza, perché sono tutti giocatori grandi, quindi se partiamo come oggi li andremo in difficoltà. Per quanto riguarda la lotta per il quarto posto, siamo lì, siamo tutte squadre ottime, io purtroppo con la Venere non abbiamo potuto insomma giocherci alla pari, come voi sapete, quindi non posso dire chi tra questi riuscirà a aiutare quel posto.